Ben trovati in un aggiornamento con il TGD3B. Sarà un fine settimana che vedrà la fine dei temporali di nubi frangi perché ritroveremo quest'anticiclone subtropicale proprio sul Mediterraneo centrale, sull'Italia, con stabilità dappertutto a parte qualche temporale domenica sera sulle Alpi centro-occidentali. Altrove tempo soleggiato e temperature estive, un caldo comunque ancora normale. Andiamo a vedere le temperature di domenica quando ritroveremo valori tra i 27 e i 31 gradi al centro-sud, 32 e 33 gradi sulla Toscana e l'Emilia-Romagna. Per quanto riguarda invece poi la nuova settimana, almeno fino a mercoledì-giovedì ritroveremo l'alta pressione ma con una componente nordafricana. Quindi arriverà una massa di aria molto calda, bollente, dall'entroterra sariano verso l'Italia. Si caricherà di umidità proprio sul Mediterraneo e quindi saranno delle giornate molto calde e anche affose in Valpadana. Possibili 35-36 gradi, punte di 39 gradi sull'entroterra della Sardegna. Da valutare poi nel successivo fine settimana l'arrivo di qualche temporale al centro-nord. Dettagli maggiori e approfondimenti sul nostro sito web o scaricando l'app di Trabi Meteo.